ciao agli amici di rassegna metropolitana oggi mi trovo in compagnia del maestro giovanna passanisi presidente dell'associazione musicale di apason che è proprio una scuola di musica ciao intanto giovanna buona buongiorno ci vuoi parlare della tua scuola di musica certamente buongiorno a tutti allora l'associazione di apason è un'associazione artistico musicale culturale e coreutica e come tale offre ai suoi iscritti quindi ai suoi associati i corsi di musica in particolar modo corsi di musica classica e moderna e quindi come tale ci sono diciamo gli strumenti accreditati per quanto riguarda gli strumenti classici abbiamo il pianoforte violino chitarra arpa e quant'altro insomma sono questi i corsi più importanti della scuola e invece come ho dimenticato una cosa molto importante il canto canto lirico e quindi anche il canto moderno perché la diapason annovera anche corsi di musica moderna e quindi i corsi di chitarra moderna di basso di batteria di canto moderno e quant'altro piano moderno e piano jazz nonché corsi di armonia e di teoria musicale e di storia della musica quindi diciamo è un patrimonio abbastanza completo per quanto riguarda la musica e tenuto tutti da da professionisti del luogo e anche non quindi anche del catanese in particolar modo e del siracusano e la diapason è centro di due importanti realtà accademie accademia di musica moderna best to rock quindi specializzata nello studio del basso e della modern music institute cioè della mmi e in particolar modo per i corsi di chitarra moderna quindi noi ci pregiamo di questo di essere centro abilitato di queste due importanti accademie capisco quindi insomma una preparazione a 360 gradi grazie maestro giovanna passanisi e allora vi diamo appuntamento alla scuola di apason una buona giornata è tutto da rassegna metropolitana già sia bellistri